stiamo percorrendo un pezzo della palatian trail uno dei sentieri più lunghi degli stati uniti più di 3.000 chilometri dal sud della georgia al main è consigliabile farlo in circa sei mesi di tempo partire verso marzo dalla georgia e arrivare in fine verso l'autunno nel main qua ci troviamo verso il clinkman dome e il clinkman dome è uno dei monti più alti della catena degli appalachie con quasi 2000 metri d'altezza ancora 4 miglia circa e ci troveremo al rifugio del mount collins grazie